Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale, anche tutto e tutto buona domenica. Mentre aspettiamo il Norway Chess voglio farvi vedere un'ultima partita dello Sharjah Masters ed è un'altra partita di Neiman. Ho visto che l'ha già spiegata molto bene sul suo canale anche Super Speed ma di sicuro molti di voi non l'hanno ancora vista e invece secondo me conviene parlarne insieme perché stiamo parlando di una siciliana giocata in maniera molto moderna, una Neidorf al più alto livello e ci ricordiamo quanto abbia sofferto negli ultimi anni, non negli ultimi mesi, Vasceda Grav che per anni è stato considerato il più grande esperto di questa variante della difesa siciliana. E allora vediamo come la gioca Neiman contro un giocatore fortissimo, l'indiano Murali Kartikeyan. Ma prima di iniziare lasciatemi salutare e ringraziare Frank e Francesco, due nuovi abbonati alle mie lezioni che trovate ormai, lo sapete, qui sul canale YouTube a soli 2,99€ al mese. Di cosa si tratta? Si tratta di una libreria di video lezioni su tutte le fasi del gioco io mi sto anche concentrando molto sul creare un repertorio completissimo sia di bianco che di nero è una libreria che conta già 25 ore di video e alle quali potete accedere subito fin dal primo mese. Adesso non dimenticate di like al video e partiamo perché Murali Kartikeyan, l'indiano espertissimo, di bianco apre con E4 e allora Neiman risponde con C5 che è la difesa siciliana. Cavallo in F3 e arriva D6 e dopo D4 siamo nella siciliana aperta. C per D4, vedete che il nero è rimasto con due pedoni centrali contro uno? Certo il bianco prenderà l'iniziativa, cavallo che ricattura in D4, cavallo in F6 attacca il pedone, si difende con cavallo in C3 e qui arriva A6. Questa è la mossa che definisce la siciliana Neidorf. Allora ci sono vari modi di continuare, alcuni di questi anche che si intersecano tra loro. Kartikeyan gioca alfiere in E2, questo è il cosiddetto sistema classico. Allora arriva E5 che attacca il cavallo, il cavallo torna indietro in B3, alfiere in E7 mossa largamente più giocata dal nero e invece Queen Neiman prende un'altra strada perché sviluppa l'alfiere campo chiaro in E6, che cosa fa? Vedete? Doppio controllo su quella casa che dopo la spinta in E5 ed il cambio del pedone in C5 è quella casa che il nero non potrà più controllare con nessun pedone. e quindi naturalmente è una casa dove il bianco potrà creare il suo avamposto. Allora alfiere in E3, di nuovo Neiman non gioca alfiere in E7 e sviluppa l'altro cavallo in D7. E questa è la volta di Kartikeyan di andare completamente fuori dagli schemi perché il bianco spinge in G4 e l'idea è quella di spingere in G5 e prendere un'iniziativa fortissima e allora Neiman, preparatissimo, gioca torre in C8, mossa suggerita dal computer, pensate, giocata dopo nove mosse soltanto tre volte. Come mai adesso questa G5 fa meno paura? E infatti l'Indiano non la giocherà perché se arriva a G5, subito torre per cavallo, G per F6, torre per alfiere, ora qui, visto che bisogna continuare, qui non bisogna farlo continuare a catturare perché cattura con scacco, allora F per E3, cavallo che ricattura, torre per alfiere e pedone, ma una grandissima iniziativa che porterà all'attacco, a un fortissimo attacco, molto pericolosa per il bianco, questa colonna C semi-aperta, proprio sull'ala dove il bianco andrà ad arroccare, per non parlare della coppia degli alfiere. Ritorniamo a noi, allora dopo torre G8, Kartikeya non gioca G5, e invece gioca alfiere in F3, arriva a H6 e quindi anche a H4, perché H6 naturalmente controllo sulla casa G5, cavallo in B6 e allora cosa vorrebbe fare il bianco? Vorrebbe giocare donna in D2, tantissime nuove minacce e arroccare subito lungo, ma donna in D2 non si può giocare perché viene subito impattata dal cavallo, e allora l'indiano è costretto a giocare donna in E2, ma cavallo in C4 arriva lo stesso, il pedone si difende arroccando lungo, una sola partita in database nella quale il nero ha giocato donna in C7, e invece Neiman propone una novità che mi convince moltissimo, ed è cavallo per alfiere. Ora, uno dei piccoli problemi qual è? Intanto gli ha tolto la coppia, non si può riprendere di donna, altrimenti si perde pure il pedone in G4, e allora il bianco è costretto a catturare col pedone F, e qui, subito, senza pensarci, ci vuole il colpo classico di queste posizioni. Torre per cavallo, inutile stare a perdere tempo, torre per cavallo in C3, Neiman non si tira indietro, B per C3, e questo è un punto molto importante, molto difficile da valutare, perché il nero può procedere in due modi, uno che sembra quello più forzante, che è donna in C8, guardate quante minacce, e invece si rivelerà quello meno pericoloso per il bianco. Tant'è che Neiman sceglierà una via più strategica. Come mai donna in C8, che appare fortissimo, alla fine dà meno soddisfazioni al nero, perché arriva subito G5, e allora cavallo in G4 è la mossa migliore, attenzione che se il bianco non fa niente arriva a H5, che solidifica la posizione del cavallo, allora H5 la deve giocare il bianco, H per G5, torre in G1, cavallo in F6, il nero si riprende il pedone, è vero che la donna cattura in C3, ma questa è una posizione, ricordiamoci che il nero ha sacrificato la qualità, quindi questa posizione di sostanziale equilibrio. E allora come continua Neiman? Guardate, cavallo in D7 intanto non sarà più impattato dalla spinta G5, e questo cavallo sicuramente è destinato in B6, da dove probabilmente in C4 potrà fare grandi minacce. Allora G5 arriva, H per G5, H per G5, torre per torre, la torre ricattura, il bianco sta dominando la colonna H, ma il re non ha arroccato. Paradossalmente il re ancora centralizzato di Neiman è più al sicuro che si avesse arroccato. Ma intanto Neiman si pappa un altro pedone, donna che cattura in G5, e quindi ha sacrificato la qualità adesso per alfiere e pedone, ma anche per una struttura pedonale veramente superiore. Giustamente avanza il pedone doppiato Kartikei, arriva C4, G6 vuole liberare l'alfiere, e attaccare questa casa E3, e allora torre in D1, cosa succede? Sembra, va proprio a giocare contro lo sviluppo dell'alfiere, perché vedete, se l'alfiere si sposta, naturalmente cade il pedone in D6. Allora ci sono vari modi di approcciarsi a questa posizione come Nero, di sicuro un modo forte, la manovra di cavallo che dicevamo prima, stavolta ancora più forte, cavallo in B6 attacca il pedone per la seconda volta, ma anche cavallo in A4 dopo, con il triplo micidiale. Invece Neiman ci studia bene, e continua con il suo piano. Alfiere in H6 rimane una delle idee più forti, come mai? Perché dopo torre per pedone si arriva al cambio donne, donna che cattura in E3 con scacco, quindi il cambio donne è forzato, donna per donna l'alfiere ricattura con scacco, giustamente re in D1, re in E7 vuole scacciare la torre. Mossa migliore. Ritorniamo indietro. Come mai non ha catturato il pedoncino? E qui bisogna stare attenti, queste posizioni, a non buttare via il vantaggio, perché, bisogna stare attenti, quando si muove un pezzo, si diceva anche in un altro video recentissimo, era una partita sul gioco piano, dopo alfiare per C4, non giocata da Neiman, vedete che l'elemento che è stato spostato, scusatemi, che è stato spostato viene subito attaccato, e allora c'è già qualcosa che non va, il nero ha perso praticamente tutto il vantaggio, addirittura, secondo me, in questa posizione non si vince più. E invece re in E7 migliora la posizione del re, vuole scacciare la torre, e allora, visto che il pedone cade, lo avanza per proteggere questa torre, ma il pedone è di nuovo sotto attacco, allora qui si può anche catturare subito, cavallo per pedone, torre in B6, dopo alfiare in C8, a proteggere, ma vedete che in qualche modo, pur rimanendo in vantaggio, il nero ha perso un po' di iniziativa, e invece fa una mossa furbissima, Neiman, gioca alfiere in G1. Come mai? Questa è veramente una flessibile mossa di attesa, che ridà la palla in mano a Kartikeyan. Cosa dovrebbe fare Kartikeyan? Dovrebbe accettare di perdere il pedone, ma se non altro, riportare indietro la torre per riposizionarla. E invece gioca Re in E2, e questo è il primo vero errore, e allora arriva alfiere in C4 con scacco, quindi questa mossa di Re consente a Neiman di migliorare la posizione dell'alfiere, Re in D1, alfiere in B5, il pedone cade sicuramente, naturalmente non può avanzare, sennò si perde la torre, e allora Re in E1 non serve assolutamente a niente, veramente un tempo regalato, scusatemi, e allora cavallo per pedone, torre in D5, cavallo in D7, ancora più precisa di cavallo in E6, e ora attenzione perché si vuole, come bersaglio, si vuole attaccare E4, cavallo in A5 attacca il pedone, ma guardate che succede, alfiere in B6, mossa migliore, come mai? Solita regoletta di prima, non si può catturare, perché arriva alfiere in C6 che vince un pezzo pieno, quindi un disastro, in questa posizione, se il cavallo torna indietro, che è la mossa migliore, allora alfiere in C6 attacca la torre, torre in D2, cavallo in F6, allora la torre deve andare a proteggere il pedoncino, ma qui non c'è più attività, Re in E6, sono quelle mosse stupende, che migliorano la posizione dei pezzi, e qui cosa si muove? Non si muove più niente, C3, G5, sta arrivando anche G4, questo finale è veramente una morte lenta per il bianco, e allora Kartikeyan tenta di tutto per tutto, ha un'idea che sarebbe geniale, se la posizione non fosse così brutta, rende la qualità, torre per alfiere, il pedone ricattura, e gli toglie il pedone, cavallo in F6, sacrificio di pedone C4, non c'è cosa l'ha fatto a fare, è impazzito, e invece no, questo è l'unico modo per creare anche lui un controgioco, perché quando questo l'ha catturato, anche il bianco ha il suo pedone passato, purtroppo un po' dontanuccio, allora arriva a 4, Re in D7, dove va questo re? Va verso l'ala, nella quale l'avversario è il controgioco, a 5 arriva con tempo, qui basta giocare Re in C7, pezzo per pezzo, allora A6, ma non potrà più avanzare, e allora è il momento di giocare sull'altra A, arriva G5, Re in D2, arriva anche G4, alfiere in H1, siamo arrivati al nostro quizzone. Come si accresce il dominio del nero in questa posizione? Allora mettete pure in pausa se volete, e da voi la parola. Ritorniamo subito a noi, alfiere in D4 mantiene tutte quelle caratteristiche, che aveva prima, che rimane sulla solita diagonale, quindi il pedone non può avanzare, oltretutto qui si perde subito, il cavallo e il re stesso protegge, ma guardate, quindi il pedone non si può muovere, il re ha un muro, adesso davanti non può avanzare, questo massimo può andare in G2, ma non potrà mai lasciare questa diagonale, se no si perde il pedone centrale, e quindi posizione disastrosa. Cosa fa Kartikeya? Muove l'unico pezzo disponibile, cavallo in A5, attacca il pedone, ma il pedone avanza con scacco, Re in C2 lo blocca, Re in B6 attacca cavallo e pedone, il pedone che è l'unico controgioco a disposizione del bianco, cadrà, Kartikeya giustamente abbandona. Allora questa è stata una siciliana Neidorf dal libro, che spero veramente vi sia piaciuta, anche spero che per molti di voi fosse nuova, con questa vittoria, o questa ed altre vittorie, ed altre belle partite, Neiman alla fine è arrivato quarto in questo fortissimo torneo, speriamo, ora poi a molti non piace, a me piace perché è un gioco, io spero sempre che non abbia barato, però a me piacerebbe vederlo in tornei, non dico se questo diciamo non è l'anno politicamente corretto per chiamarlo al top, e poi è anche vero che ci sono anche tanti giocatori con un Edo superiore al suo, però mi piacerebbe continuare a vederlo in tornei che hanno come minimo giocatori di questa forza, quindi con gli Eri Gaisi, i Nialzarin, eccetera eccetera. ditemi cosa ne pensate sotto al video, io naturalmente vi ringrazio tantissimo per l'ascolto, iscrivetevi al canale per letarmi a farlo crescere, non ci vediamo domani, che domani c'ho da fare, ci vediamo però per l'inizio del mitico Norvo Eces, a presto! Grazie! 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 Grazie!